I attori Isabella Adriani e Gerardo Placido, fratello di Michele, martedì 15 luglio all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia hanno dato voce ai personaggi più suggestivi dell'ultimo best-seller di Valerio Massimo Manfredi, archeologo e scrittore Il mio nome è nessuno, l'avventura di Ulisse, il ritorno, raccontando nell'ambito del Tao, teatri antichi uniti, il viaggio più straordinario di tutti i tempi, quello di Odisse e Ulisse, con il suo universo brulicante di uomini, donne, imprese gloriose e sventurate. Sindaco, si rinnova l'appuntamento all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia con i teatri antichi uniti? Sì, per noi quest'anno è la 25esima edizione, quindi è un momento importante in questa splendida cornice che è il nostro anfiteatro, un po' il simbolo del nostro barco archeologico, quindi per l'ennesima volta dimostriamo l'attenzione ai temi culturali ma allo stesso tempo al turismo perché poi la cultura abbinata al turismo dà proprio la sensazione di fruire quelli che sono i patrimoni che abbiamo, che è Orbisaglia, quindi il parco archeologico. Peraltro questo è il primo di altri appuntamenti che si terranno qui per alietare l'estate, non solo i turisti ma anche le persone del luogo. Certo, ovviamente. Sì, questo è il primo appuntamento, poi ne seguiranno altri tre, quindi il martedì prossimo con Medea, poi avremo lo spettacolo dei gladiatori e infine Galatea Aranzi che rappresenterà, quindi fede la diritto all'amore e Galatea Aranzi che tra l'altro ha fatto anche parte del cast della grande bellezza. Quindi tutti i spettacoli di ottimo livello che appunto vanno a sucellare, come dicevo prima, questa splendida cornice del teatro antico di Orbisaglia. Questa sera invece il protagonista è la meravigliosa e fantastica storia di Ulisse. Sì, con Valerio Massimo Manfredi, quindi tratto dal suo libro, appunto racconta le vicende, le peripezie del ritorno di Ulisse a Iteca, insomma. E quindi ecco, si sposa bene anche con la romanità che è insita in questo territorio, insomma, quindi fin dagli origini del nostro paese. Il traiettore è anche Gerardo Placido. Sì, Gerardo Placido è quindi un nome importante, il fratello di Michele Placido che è qui con noi, penso, per la prima volta, che comunque appunto rappresenterà sicuramente molto bene, insomma, questa serata e questa sera.